La rivoluzione è un cambiamento completo e totale di un qualcosa che c'era prima. Mi sape per Cadoneg è che diventi una città un po' più viva e ci siano magari più spazi verdi o spazi dedicati alla ricreatività che alla fine come comune è molto moderno, però secondo me manca proprio questa cosa per renderlo completo, diciamo. Per me il progetto rappresenta un'opportunità per mettermi in gioco. Non solo lavorativo ma anche ricreativo. Un bel mix come progetto perché unisce l'inserimento lavorativo alla cultura. Per cui grazie alla Iurta inizieremo a cambiare il volto di Cadoneghe, ma cambiarlo in meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.